ciao ragazzi bentornati sul mio canale sono vince oggi andremo a vedere com'è facile riuscire a far muovere una persona in una fotografia esatto muovere nel senso di modificare la sua posizione nello spazio proprio della foto perché grazie a photoshop è possibile andare a fare questi ritocchi in maniera molto semplice in realtà e se non sapete come si fa beh ci penso io sono qui a dirvelo vi raccomando iscrivetevi al mio canale se vi interessa questa nuova chiamiamola così playlist che sto portando proprio su photoshop sto cercando di inserire molta più post produzione fotografica molta più fotografia e anche post produzione video trucchetti di post produzione video al mio canale perché mi piace cambiare quindi voglio un po cambiare il mio canale ma non vi preoccupate anche tutto quello che rimane sul mondo dei droni non sarà trascurato ma sarà un completamento nel mio canale spero che sia una cosa che voi gradirete comunque dire che basta parlare l'ho già fatto fin troppo andiamo a photoshop ok ragazzi quindi siamo nel nostro programma di post produzione la maniera sbagliata per provare diciamo così a cambiare la forma delle gambe magari delle braccia della posizione di questo runner di questa runner anzi in questa fotografia non è in questo modo fattibile se vogliamo farlo in questo modo quindi se stai provando a fare modifica trasforma e altera come in questo caso probabilmente ti stai chiedendo che il modo giusto per cambiare magari la posizione delle braccia può essere magari questa di andare a cambiare assolutamente tutti questi punti vedete che addirittura sotto poi ci esce questa immagine insomma non è assolutamente il modo adatto per andare a cambiare la forma di questa runner quindi che cosa dobbiamo andare a fare ve lo mostro subito è molto semplice ma guardiamolo passo passo andiamo per prima cosa in selezione a questo punto andiamo a selezionare soggetto guardate che cosa fa photoshop ha trovato il soggetto alla perfezione e ce lo ha ce lo ha selezionato a questo punto command o control c e poi command e control v per copiare appunto la selezione vedete qui si è formato un altro livello con solamente il nostro soggetto e lo sfondo quindi rimane in questo modo a questo punto teniamo premuto il pulsante command o ctrl del nostro computer andiamo a fare clic sul nostro livello ci spostiamo quindi sul livello di sfondo andiamo in modifica e andiamo a a fare riempimento in base al contenuto aspettiamo che photoshop faccia la magia vedete cosa è successo photoshop ci elimina il soggetto dallo sfondo ok adesso questa è un'immagine un po' difficoltosa infatti sicuramente ci sono delle imperfezioni qui però vi faccio vedere cosa succede a questo punto cosa dobbiamo fare torniamo sul nostro livello numero 1 quello con la selezione del soggetto andiamo in modifica e andiamo a fare alterazione marionetta e cosa andiamo a fare quindi andiamo a impostare dei punti con i quali vogliamo appunto il movimento delle braccia magari o delle gambe del nostro corridore i punti che selezioniamo noi sono il primo qui che blocca questa parte del braccio il secondo punto che blocca la parte del gomito e poi ne andiamo a mettere un altro appunto magari sulla mano che è quello che noi andremo a spostare infatti diamo degli altri punti di riferimento anche qui nelle gambe li teniamo appunto fissi andiamo a muovere la spalla un punto anche sulla testa sempre anche qui e adesso cosa facciamo se noi andiamo a muovere qualche punto esterno vedete riusciamo a posizionare il braccio magari in maniera diversa lo stesso possiamo fare anche qui ovviamente cercate di farlo con criterio senza andare a scombinare tantissimo le cose e vedete che riusciamo quindi a cambiare proprio la forma del nostro soggetto gli diamo applica gli andiamo un attimo a togliere la selezione e abbiamo quindi mosso un po' il nostro soggetto perfetto ragazzi avete visto quanto è semplice ancora una volta riuscire a fare questo piccolo trucchetto fatemi sapere quindi qui sotto nei commenti cosa ne pensate se potete utilizzarlo per qualche vostra fotografia che magari avete e vi volete divertire un po' proprio a cambiare qualche movimento insomma di qualche vostro amico durante uno scatto e magari taggatemi come vincete in instagram per farmi vedere il vostro risultato vi ringrazio ancora una volta per essere restati con me fino alla fine di questo video e noi ci vediamo al prossimo ciao ragazzi ciao ciao ciao